Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. La Sicilia potrebbe vivere di turismo, è quello che ci dicono sempre e lo hanno ripetuto anche in questa campagna elettorale. Vediamo cosa serve per realizzare questo sogno e se ci sono tutte le premesse per mettere in pratica un piano veramente importante per poter rilanciare l'isola nel mondo e non soltanto in Italia. Allora, ne parliamo con Nicola Farruggio che è il presidente provinciale di Federalberghi, uno che ha sempre lavorato appunto negli alberghi per proprio tradizione familiare, poi gli chiederemo anche qualche cosa. Grazie, ciao, buon trovato. Allora, cominciamo subito appunto parlando di stagione turistica, ce l'abbiamo quasi alle spalle, anche se abbiamo avuto appunto questo periodo diciamo quasi estivo, no? Dico in questi ultimi giorni ancora questa cosa lunga dell'estate. E allora, che numeri abbiamo avuto quest'anno? Ma è stata di fatto la stagione della reale ripartenza del turismo, del turismo diciamo inteso non più quello assolutamente nazionale ma anche internazionale, anche se i numeri non sono ancora così completi dai turismi internazionali, però sicuramente questa stagione estiva che ha avuto una lunga coda importante, soprattutto per la Sicilia, grazie alla bella stagione. credo che abbia cominciato a consacrare quell'effetto diciamo rimbalzo auspicato e auspicabile del post-covid. Possiamo avere dei numeri? Due anni di grandi difficoltà, perché sia la stagione 2020 che la stagione 2021 sono state due stagioni per modo di dire parziali di turismo prevalentemente nazionale, qualche punta di turismo europeo, molto movimento anche locale, siciliano, ma chiaramente i numeri che avevamo registrato nel 2019-18, che stavamo registrando anche in previsionale del 2020, erano sicuramente diversi da quelli che poi siamo riusciti a realizzare. Quest'anno di fatto stiamo avendo, abbiamo avuto e continuiamo ad avere, siamo a novembre ma fondamentalmente abbiamo registrato una tendenza sicuramente di crescita importante, anche prospettica, anche per i prossimi anni, io ritengo per almeno uno o due anni saranno numeri importanti per la Sicilia. Dobbiamo essere bravi, secondo me, perché è un po' quello che abbiamo avuto, diciamo fondamentalmente è stata un'azione di rimbalzo, quindi passivamente l'abbiamo subita, adesso la dobbiamo governare, questa è la sfida. Anche perché, diciamo, in questo periodo non è stata molto governata, perché di politici, diciamo, sia a livello locale che a livello regionale, abbiamo avuto un momento di vacazio, devo dire, quindi diciamo che non abbiamo fatto... No, gli interlocutori non ce n'erano, quindi diciamo le cose sono andate un po' così. Abbiamo pensato immediatamente a riprendere a lavorare, Per inerzia, diciamo. Quasi per inerzia, un turismo subito che comunque ha portato anche a delle difficoltà in termini organizzative per le strutture è chiaramente più complicati. Quello che dà il senso, diciamo, di quello che stai dicendo tu, sono praticamente i numeri, no? I numeri che, soprattutto quello degli aeroporti, nel 2019 erano arrivati numeri incredibili, quasi a 7 milioni, se non ricordo, più o meno di passeggeri, a Palermo ad esempio, no? E quindi superando abbondantemente i famosi 5 milioni. Poi dopo di che il 2020 c'è stato proprio il disastro, il crollo. Il 2021 ci si è un po' rialzati, leggermente, ma molto poco. Adesso questo 2022 i numeri già sono, diciamo, possono dire pre-covid, diciamo come... Gli aeroporti di Palermo e Catania sono distinti a livello nazionale, addirittura registrando numeri importanti, addirittura nella classifica nazionale, nelle prime quattro posizioni troviamo i due scali siciliani. La Sicilia è stata percepita, forse, come della destinazione più esotica all'interno del sistema Europa, quindi quella, diciamo, quasi lungo raggio, fondamentalmente, la più lontana, ma la più anche desiderata. Gli aeroporti hanno fatto la loro parte, chiaramente molte compagnie hanno investito. Chiaramente le compagnie, anche loro, hanno delle difficoltà, e lo vedremo anche nei prossimi mesi, nel mantenere... E c'è questo problema energetico che ha un impatto notevole. Anche sulle compagnie aeree, qualche volo... Anche sugli alberghi, anche sugli alberghi, dico questo ormai... Su tutte le varie strutture ormai, sì. A volte a me secca ripetere continuamente le difficoltà che le strutture ricettive hanno nel mantenere gli standard, intanto, e confrontandosi con una realtà economica completamente diversa rispetto al passato. Paralostalmente è quasi vanificato, questi numeri importanti sono vanificati, queste economie nuove, dalle economie che in uscita, che sono dovute... Purtroppo si è perso tanta economia sull'utenza elettrica, sulle prime... Perché la coda lunga dell'estate significa anche condizionate le accesi fino a... Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Noi siamo per dare servizi, non per toglierli. Ed è chiaro che è complicato. L'intervento governativo è parzialmente una soluzione, ma io credo che non sia una soluzione. È un contentino, ma è chiaro che dobbiamo registrare un nuovo approccio rispetto a un mondo diverso che sicuramente... Ci sono delle aree della Sicilia che hanno maggiormente, diciamo, sono state scelte in questo... Allora, a parte le destinazioni sempre gettonate, che sono quelle di Taormina, i capoluoghi, Palermo in testa, diciamo come capoluogo di provincia, io credo che ormai la Sicilia venga riscoperta differenziando anche i viaggi, c'è una Sicilia occidentale molto interessante, una Sicilia del sud-est che riesce a vendere anche un prodotto turistico magari diverso, la Sicilia naturalistica, anche l'entroterra, i borghi... Quindi diciamo che riusciamo ad avere non più il giro di Sicilia classico degli operatori che in cinque giorni si facevano girare tutta la Sicilia, ma un turista un po' più attento, si parla anche di quel turismo lento, quel turismo che vuole veramente scoprire, ma anche approfondendo quelle che sono le conoscenze, le proprie conoscenze attraverso dei territori che riusciamo a offrire in maniera differenziata, quindi sia dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista naturalistico, monumentale, c'è veramente un grande patrimonio, io dico purtroppo parzialmente utilizzato e parzialmente messo a sistema e questo è la grande sfida anche del nuovo governo regionale e degli enti locali che dobbiamo fare e dobbiamo fare insieme, io dico agli operatori perché io credo che nessun assessore, il più competente di tutti, possa pensare di ragionare se non con gli altri assessorati ma anche con gli operatori del settore, allora è un consiglio che do al nuovo assessore, tra l'altro amico Francesco Scarpinato e non solo a lui, alle attività produttive perché poi bisogna anche rendere sostenibili gli investimenti che poi vengono fatti sul territorio, le strutture ricettive, dobbiamo riuscire a farle diventare competitive rispetto ad altri mercati internazionali che riescono a fare con minori sforzi i migliori successi e questa è un'altra sfida anche delle attività produttive per sostenere queste imprese, le attività di impresa. Diciamo che noi adesso, visto che il rimbalzo può valere un anno, il prossimo anno già vedremo appunto quello che sarà la situazione, però ci sarebbe tutto il tempo per poter organizzare già delle attività, dobbiamo fare i conti con dei gap, un gap diciamo appunto strutturale, infrastrutturale, che è fondamentale perché nei posti bisogna poterci arrivare e per il momento non è così, pensiamo alla Palermo Agrigento che è lo scandalo più grosso sicuramente che c'è nella nostra regione, ma anche le stesse autostrade non sono per niente diciamo delle vere e proprie autostrade perché sono sempre interrotte dai cantieri. Dico, questi temi voi li porterete in discussione? Noi siamo per, l'abbiamo detto già da tempo, noi siamo per creare una cabina di regia tra più assessorati, quindi infrastrutture, beni culturali, territorio ambiente, ovviamente turismo, se al centro c'è veramente un progetto di turismo, un progetto di marketing territoriale, di sviluppo, di promozione di questa terra di turismo, tu hai cominciato dicendo di turismo e questa Sicilia in realtà potrebbe vivere, è una frase un po' vecchia, storica, però fa capire che purtroppo ancora non ci siamo, fa capire che ancora non ci siamo, se andiamo avanti così su progetti di breve scadenza o iniziative spot, è chiaro che non possiamo che raggiungere purtroppo questi risultati, e quando si parla di 15 milioni di presenze sembra che abbiamo superato chissà quale soglia, pensiamo che ci sono regioni italiane che si sono dotate anzi tempo di progetti di marketing territoriali, anche pluriennali e che seguono, che sono seguiti a prescindere da quelle che sono poi le alternanze politiche, perché ovviamente non possiamo andare secondo le alternanze politiche, allora quelli hanno fatto risultati, si parla dei 70 milioni del Veneto, numeri importanti, dei quasi 15 milioni che fa Malta stessa, che ha messo un autore del turismo a gestire quelle che sono le politiche del turismo generale, sia dalle imprese che dei flussi turistici. E la Sicilia invece ha tantissime zone, tantissimi goghi? Noi andiamo a tantissimi bocconi e quindi chiaramente a volte così secondo l'onda non riusciamo mai a completare un ragionamento, vogliamo riprovarci ancora come associazione di categoria, sicuramente ci saremo, vorremmo lavorare insieme anche per dare quel contributo giusto di idee, di progettualità. Diamole qualche idea ai nuovi assessori che sono appunto quello comunale, che è Sabrina Figuccia, mentre quello regionale appunto come dicevi tu Francesco Scarpinato. Io ho già un dialogo importante, loro si conoscono attraverso le esperienze maturate all'interno del Consiglio Comunale, immediatamente io riterrei di creare, ma credo che anche con gli altri sindaci delle principali destinazioni siciliane, un trade union sia tra amministrazioni e con gli operatori. Ecco, fare un tavolo insieme tra più amministrazioni. Fino adesso c'è stata questa... Sì, i tavoli ci sono, si sono sempre convocati, lasciano poi il tempo che trovano. No, ma dico questa vera condizione... Vabbè, spesso ci hanno anche situazioni politiche contrapposti dove ci si trova magari... Vabbè, adesso si possono parlare. Io credo che noi del turismo, ecco, il turismo non conosce il partito, la Sicilia turistica deve lavorare come il partito del turismo, se questa è la volontà a livello regionale, il nostro petrolio e il turismo, le nostre industrie sono quelle turistiche, non vedo altro all'interno del panorama, diciamo, regionale. E lo abbiamo dimostrato anche quest'anno, nel momento in cui c'è stata la ripartenza, la ripartenza nostra è stata quella del turismo, che ha portato economia e poi porta economia diffuse, quindi l'indotto, lo sviluppo di quelle che sono tutte le altre, diciamo, professionalità. Mi concentrerei su questo, chiaramente è un lavoro difficile, è un lavoro complicato, bisogna razionalizzare, non serve a fare tavoli tanto per... Cioè non esperti. Piccoli, io dico, piccoli, diciamo, commissioni di lavoro, con unità di intenti sicuramente, ma partendo da zero, perché fondamentalmente, dico, tanto è stato fatto, ma è stato fatto in maniera, così, un mosaico un po', il turismo va governato, va progettato come la realizzazione di una struttura, va prima progettato. Cioè non c'è un progetto. Non c'è un business plan, non c'è uno sviluppo pluriannale nel quale c'è una traccia da seguire. Anche gli eventi, gli eventi sportivi che portano anche in un momento... Gli eventi culturali, non c'è, gli culturali. Vanno, a volte, leggiamo, apprendiamo notizie di alcuni eventi che non ci intercettano. Dobbiamo anche monitorare questi eventi se riescono a portare, se dobbiamo sostenerli, diciamo, ulteriori pernottamenti, altrimenti, diciamo, è soltanto un beneficio che facciamo a qualche associazione di volta in volta diversa, dove si sostiene qualche iniziativa territoriale. Allora, bisogna cambiare anche la logica. Io credo che la logica di quello che è stato fino ad ora l'intervento pubblico rispetto a una partnership col privato. Queste due, diciamo, componenti devono, a mio avviso, ragionare insieme. Io credo con le logiche del buonsenso, la volontà univoca di raggiungere determinati... E monitorarci anche, perché è chiaro che bisogna monitorare costantemente quelli che sono gli interventi e non gli interventi a pioggia, che poi magari spesso diventano anche un boomerang. Bisogna ragionare. Io mi auguro adesso, che si è appena costituito il nuovo governo regionale, che proprio l'input venga dal governo regionale, sui vari territori. ricostruzione anche delle piccole... si parlava a volte degli organismi di mezzo, le famose aziende provinciali del turismo, che una volta le APT, come si dice, una volta, che sono state destituite anni fa. Erano, diciamo, delle strutture importanti, soprattutto nei rapporti con i territori. La governanza ovviamente rimane, a mio avviso, deve rimanere centrale, ma le nostre sfide dei prossimi anni, anche attraverso il PNNR, che può anche darci una mano, se ben utilizzato, devono essere quelle di cambiare pagine, io dico cambiare pagine, cambiare modalità di intervento e ragionare non a spot, ma attraverso delle progettualità. Magari inizialmente si potrà essere anche un po' più lenti, però sicuramente a lungo andare io credo che potremmo avere una cartina di tornasole che possa essere utile al sistema siciliano. Anche perché abbiamo letto in questi giorni che l'assessorato al turismo è quello che ha un grosso budget, proprio da spendere in questi… Ah, ancora un po' di budget, c'è stata la promozione del SISISI, che è stata un'iniziativa sicuramente a sostegno delle imprese e delle attività, ma anche ha smosso parzialmente un minimo di mercato, va sostenuta, ci sono queste somme che possono essere ancora riutilizzate o utilizzate anche per allungare questa iniziativa. Io credo che ci bisogna ragionare su quello che c'è, su quello che potrà esserci e ovviamente io credo che se rendiamo competitivi le imprese, e quindi parlo anche di forza di lavoro, di professionalizzazione del sistema del turismo, io come ente bilaterale mi sto impegnando soprattutto sulla formazione degli addetti del turismo, perché noi purtroppo paghiamo un dazio importante che è quello della professionalità degli operatori del turismo. che oggi con cui noi spesso ci confrontiamo, professionalizziamoli adesso, adesso bisogna essere, io credo, bisogna riguardare questa attività come una professione e non come un'attività. Le lingue, servono le lingue, servono sapere come trattare i clienti. Sì, ma anche nei servizi minori, perché la ristorazione, io non parlo solo degli alberghi, parlo un po' tutti quelli che sono le componenti per rendere un territorio turistico qualitativamente importante. Noi dobbiamo mirare a un turismo di qualità, gli investimenti alberghieri ci sono stati, ci sono, quindi dobbiamo dire grazie anche agli investitori, anche stranieri che stanno puntando sulla Sicilia e questo ci deve far sperare che probabilmente qualcuno continui a puntare sulla Sicilia, quindi noi dobbiamo avere un impegno ancora più forte per valorizzare questa Sicilia. Ci sono delle cose che servono, diciamo, appunto anche di contorno, per cercare di migliorare sempre i servizi. Uno di questi è, per esempio, lo lancio così, è quello dei servizi di collegamento in città, che sono, diciamo, sì, viaggiando un po' in tutto il mondo, compreso anche, adesso conosco anche in qualche modo la realtà di Tunisi, ci sono questi servizi che sono Uber, Bolt, sono servizi di auto che forniscono appunto dei collegamenti brevi anche a costi, diciamo, veramente irrisori che potrebbero, diciamo, fare, lasciare anche la macchina a casa, porcheggiata a casa, visto i costi, diciamo. Dico, puntare anche in Sicilia allo sviluppo di queste cose, capisco che ci sono i tassisti che in questo momento vi vorrebbero, diciamo, elinciare. Però dico, puntare perché ormai non è più concepibile che certi servizi qua da noi non possono arrivare. Io penso, ho avuto ieri un incontro sia con l'assessore Figuccio ma anche con l'assessore dell'attività produttiva Forzinetti, abbiamo discusso anche di queste tematiche, io credo che il mezzo pubblico, il nuovo mezzo pubblico debba diventare il taxi per la città di Palermo, io parlo della città di Palermo, ma può essere esteso in altre destinazioni. Allora, bisogna creare un patto veramente con, dico, i tassisti sono, insomma, di una città, un completamento di servizi, però bisogna... Ma le nostre città non vengono annullate se ci sono queste cose. No, bisogna, ecco, evolversi, evolversi, oggi si va verso altre tipologie di se, abbiamo visto un po' Airbnb come si è evoluto e ha evoluto anche il mercato della ricettività. Fondamentalmente, dico, si può, ecco, spesso si parla del traffico di Palermo, però non immaginiamo che nella maggior parte delle città metropolitane ci si muove in taxi. Sì. Il palermitano si muove in taxi, non dobbiamo pensare soltanto che il taxi possa servire al turista. No, è appunto. O il turista è, diciamo, l'agnello sacrificale perché deve cercare di ricompensare i mancati introiti dei tassisti, quindi non può essere neanche spennato. No. Dobbiamo, quantomeno in un'area centrale, io sono da anni che... Mi batto per, anche con l'amministrazione precedente, avevo portato un'idea che poteva essere interessante, quello di, con una cifra fissa, quindi una cifra flat, come se c'è una tariffa flat, potessi muovere all'interno di tutto il perimetro della ZTL, così si sia la tratta, ma proprio per il palermitano e anche per far muovere quel movimento dei tassisti che spesso vediamo invece nelle piazze fermi, tra di loro magari a parlare, quando potrebbero anche... Esatto. Quindi si sta lavorando in questo senso anche attraverso delle piattaforme che possono essere condivisibili anche per così come Uber e credo che Palermo debba fare anche questo passo in avanti e così anche come le categorie dei tassisti, le due cooperative, debbano cominciare a comprendere che forse bisogna allinearsi verso questa direzione. le guadagnerebbe la mobilità generale della città e probabilmente farebbero anche più in tassi loro. Ma io immagino cosa significa arrivare in centro, non avere il problema del parcheggio, pagando pochi euro, pochi euro, perché questa è la questione, noi ci troviamo a volte anche come alberghi a dovere ascoltare tassisti che per brevissime tratte pagano 30-40 euro, l'altro giorno un tassista mi ha detto, un turista mi ha detto che aveva preso un taxi, non mi ricordo da quel percorso, mi ha detto, io sì sono straniero ma non sono fesso, voleva sapere quanto costasse eventualmente, anche quando si dà del cibo che non è buono, non è neanche corretto ascoltare turisti che poi partono con determinate tariffe, poi diventa, dico le tariffe se ci sono è bene esporle, io dico, forse sono regolamentate dal Consiglio Comunale vanno esposte visibilmente e in maniera chiara in ogni auto del... Queste sono le cose che poi fanno male a tutto il sistema, a tutto il contratto. Se c'è la carta di credito allora paghi di più, se sono due bagagli paghi di più, se sono in quattro invece di tre paghi di più, cioè ci sono delle cose che uno poi si sente anche un po' preso in giro, allora poi si va a vanificare quell'aspetto diciamo di ospitalità e di qualità che la struttura città dovrebbe cercare di dare, ma anche il decoro di alcuni, ecco parlavamo di mobilità, il decoro di alcuni assi primari del centro storico, soprattutto quelli monumentali, io credo che adesso è il momento di governare un sistema e anche una città che così come un campo è riuscito a far nascere agrumi, pomodori, lattuga, tutte nello stesso luogo, adesso bisogna cominciare a governare questo processo anche economico che deve essere sicuramente unita a un maggiore decoro soprattutto del centro storico. Bene, io sono sicuro che questi incontri li ripeteremo perché sono molto interessanti anche per sapere se poi sia il governo della città che anche quello regionale vi convoca, vi sente, segue le vostre... No, devo dire abbiamo una buona relazione... No, se poi questa cosa si concretizza in cose... Sappiamo che c'è una macchina burocratica molto complicata, allora deve essere, ecco, dico, una visione diversa anche da parte degli uffici... Bisogna snellire necessariamente un po' tutte... Bisogna snellire... Procedure perché altrimenti non si arriva da nessuna parte... Diventa estenuante, ma io credo diventa estenuante anche per gli stessi assessori che poi vogliono magari fare delle cose... Bene, io ringrazio Nicola Farrugio che è stato con noi, ricordiamo appunto presidente di Federalberghi della provincia di Palermo, ringrazio appunto di averlo avuto ospite con noi, abbiamo fatto appunto questo giro sul turismo della regione siciliana, lo ripeteremo sicuramente, lo riprenderemo più avanti, io vi auguro una serena serata e vi ricordo appunto di seguire Talk Sicilia. Grazie a tutti!